Violenza sessuale su una paziente per un medico di base di Ogliastro Cilento scatta la sospensione dall'esercizio della professione. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucagna, Donatella Bove, che ha colto la richiesta del sostituto procuratore Alfredo Greco. I fatti descritti negli atti depositati dal procuratore sono raccapriccianti. Il medico di 63 anni, originario di Ogliastro Cilento, dove risiede ed esercita da tempo la sua professione, avrebbe più volte abusato di una donna originaria del nord, praticando sedute di ozonoterapia per curarle disturbi al colon. Il dottore parlava di test bioenergetici volti a valutare i flussi energetici per allineare i sette chakra e riequilibrare lo yin. Invece la paziente, denudata, sarebbe stata sottoposta a ripetute molesti sessuali. I fatti risalgono la scorsa estate. La donna, residente in provincia di Milano, nel mese di arriva ad Ogliastro per partecipare al matrimonio di amici. Durante il viaggio lamenta dei disturbi al colon e al rene. Giunta nel Cilento si fa visitare dal professionista di Ogliastro ad accompagnarla e la madre. Nello studio, oltre al medico, c'è solo un'infermiera. Durante la prima visita il dottore si limita ad effettuare un test bioenergetico e a somministrarle flebo con prodotti omiopatici. Poi il noto professionista le suggerisce di sottoporsi ad un trattamento terapeutico di ozonoterapia ed idrocolonterapia, effettuata attraverso tubicini inseriti nelle parti intime. Trattamento che la paziente accetta di eseguire e dal quale inizialmente trae anche beneficio. Per ogni ciclo di sedute la donna sborsa 1000 euro. Qualcosa cambia durante la seduta del 20 giugno, quando il medico va ben oltre ai trattamenti terapeutici. E' tutto descritto nella denuncia presentata qualche giorno dopo dalla donna ai carabinieri. Abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della paziente, il medico avrebbe dato sfogo alle sue perversioni, sottoponendo la donna a continue moleste sessuali. Le somministrava delle gocce, le spiegava che le carezze particolari e i baci spinti sul viso nelle parti intime servivano ad allineare chakra, perché lei non aveva il fattore maschile. Il medico si qualificava pranoterapeuta, quindi doveva darle energia. Nei giorni successivi il professionista fa sdraiare la donna su un materasso a terra, con musica rilassante e in penumbra, il corpo coperto solo da slip e reggiseno. Lui si toglie la magliette, le si sdrai accanto e ricomincia con le molestie. Spaventata e scossa, la donna racconta tutto ad un amico, rientra subito a Milano, dove, dopo aver parlato con una psicologa, denuncia tutto ai carabinieri. La denuncia viene raccolta dai militari di Castellanza e poi da quelli di Castelnuovo-Cilento, competenti per territorio. Sulla base della segnalazione della paziente, Greco avvia e coordina le indagini fino all'emissione dell'ordinanza applicativa. La donna trova il coraggio di denunciare nei dettagli quanto accaduto durante la visita medica. Le indagini sono volte ora a verificare se la paziente di Milano sia stata l'unica vittima. L'auspicio è che tutte le altre pazienti che potrebbero essere state vittime di analoghi attenzioni non taccino e trovino la forza di denunciare le molestie subite.